E' stato identificato e arrestato dalla polizia poche ore dopo un accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio in via Smecca, in pieno centro storico a Gela, un pluri pregiudicato per violazione delle norme della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Manette e polsi di Giovanni Salucci, 65 anni, pluri pregiudicato per reati di mafia, estorsione contro il patrimonio in materia di armi e altro, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Nel pomeriggio un 21enne era stato colpito alla mano destra con un fendente. La vittima è fuori pericolo grazie al tempestivo ricovero e la ferita è stata giudicata guaribile in otto giorni. Gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Gela, gli ordini del dirigente Francesco Marino, a seguito dell'aggressione, avevano immediatamente concentrato l'attività investigativa finalizzata alla ricerca del responsabile con controlli serrati nei confronti di soggetti malavitosi, ritenuti fondatamente coinvolti nell'evento criminoso. La perquisizione personale e locale nell'abitazione di Salucci ha consentito di ritrovare 10 coltelli di genere vietato, di cui uno nel comodino della camera da letto. Il pregiudicato dovrà rispondere di violazione delle norme della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e detenzione abusiva di armi.